gentili colleghi buonasera prego a tutti di accomodarsi perché diamo inizio a questa seduta grazie a tutti voi per essere intervenuti grazie a coloro che tanti anni fa dieci anni fa pensarono di istituire questa tradizione della lettura in onore del nostro rettore Pierugo Calzolari a cui tanti di noi tutti coloro che sono qui in sale tantissimi altri colleghi sono veramente molto affezionati e non lo dimenticheranno mai io dico soltanto due parole di apertura poi cedo la parola al magnifico rettore e alla professoressa Monari che hanno che ha organizzato questo incontro due parole personali anch'io come tanti come vi ho detto sono legato a Pierugo Calzolari per vari motivi Pierugo diventò rettore nello stesso anno in cui io divenni professore ordinario io poi che sono medico consentitemi a tanti anni dalla sua scomparsa di dire queste parole sono medico per cui ho vissuto anche Pierugo non soltanto dal punto di vista accademico ma dal punto di vista personale ho vissuto la sua malattia e tutta la vicissitudine il travaglio che l'ho portato come tutti voi sapete anche al trapianto di fegato l'ho vissuta molto da vicino perché io mi occupavo proprio e mi occupo tuttora di malattie del fegato e di trapianto per cui ho seguito Pierugo in tutta questa sua storia che devo dirvi ma tutti voi che l'avete conosciuto l'avete constatato personalmente affrontato con una forza incredibile noi medici abbiamo visto centinaia migliaia di pazienti in questo campo in tante altre malattie persone forti come Pierugo a me è capitato raramente di incontrarne e ricordo un solo episodio tra i tanti che potrei ricordare però quello mi è rimasto impresso nella memoria a testimonianza della sua forza d'animo quando colpito duramente anche alla colonna vertebrale e fu costretto alla sedia a rotelle per un breve periodo affrontò gli studenti in rivolta qui in piazza Verdi con la sedia a rotelle questo lo ricordo ancora non ebbe paura gli affrontò tutti come era abituato a fare a viso aperto sempre pronto al confronto con una forza incredibile come del resto ha dimostrato in tutta la sua in tutta la sua vita l'altra cosa che vorrei dire Pierugo era un minghettiano come me scusate questo ricordo personale liceo minghetti è l'unico liceo classico che è rimasto a bologna e noi minghettiani siamo sempre stati molto legati al nostro liceo Pierugo era ingegnere una delle poche persone che ha saputo incarnare veramente la fusione delle due culture si parla spesso di questa unitarietà della cultura scientifica umanistica pochi sanno veramente interpretare questo spirito che collega le due anime lui lo ha saputo interpretare al massimo livello lui era un ingegnere ma era veramente un grande umanista e l'ha dimostrato tutte le volte che parlava e tutte le volte che si confrontava con docenti e studenti bene non vi rubo altro tempo cedo la parola al magnifico rettore che porterà il suo saluto grazie bene buon pomeriggio a tutte e a tutti io da questa posizione non ce la posso fare tutte le volte che vengo qua mi trasferisco di là vengo abbagliato e centrato dal grazie mille bene innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutti e a nome mio e di tutto l'ateneo rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti innanzitutto ringraziamento al professor Bolondi alla professoressa monari e alle colleghe ai colleghi al presidente blangiardo che c'onora della sua presenza sono felice di essere qui in uno degli spazi più belli del del nostro ateneo per riprendere quella che è la tradizione delle pierugo calzolari leccios proprio interrotte dalla pandemia riprese qui qui oggi la mia soddisfazione è aumentata dal fatto che l'iniziativa si è intitolata ad un professore ad un rettore le cui azioni restano vive nel ricordo di tutti noi un saluto particolare a tutti i componenti della famiglia che che sono qua presenti oggi nei suoi due mandati alla guida del dell'ateneo bolognese il professor calzolari non si è solo limitato ad affermare consolidare il ruolo dell'università di bologna quale punto di riferimento e di eccellenza del sapere e della ricerca a livello internazionale ma si è sempre battuto in favore della cultura e della scienza proprio quella cultura trasversale che veniva prima ricordata dal professor Bolondi contro i tagli orizzontali e discriminanti che ci sono stati in quegli anni come di molti di voi sapranno cito spesso l'articolo 34 della della nostra costituzione che considero una guida una stella polare come diceva la senatrice segre proprio la settimana scorsa quando le abbiamo conferito la laurea onoris causa i capaci e meritevoli anche se privi di mezzo hanno il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi in questo senso mi piace ricordare l'impegno del professor calzolari a favore degli studenti la lotta agli affitti in nero che oggi uno dei punti chiave del mio mandato è proprio sul diritto allo studio che abbiamo mobilitato e continueremo a mobilitare risorse straordinarie sperando che questo venga apprezzato e e non solo dileggiato come si può vedere passando in via zamboni oggi dopo la serata nefasta di ieri sera e detto questo continueremo ad onorare la memoria di pierugo calzolari anche riaffermando e incrementando la centralità nazionale e internazionale dell'alma mater siamo l'ateneo del paese con il maggior numero di progetti pnr e proprio di ieri i risultati di alma marie curie che ci hanno visto primeggiare per la prima volta nella nostra nei nostri negli ultimi anni l'aumento consistente di horizon dei fondi di horizon europe credo che che questo faccia sì che eh sì l'ateneo di bologna abbia continuato e proseguito sulla scelta sulla strada di essere all'avanguardia sulla ricerca europea così come è stato fatto nel mandato di di calzolari questi risultati sono frutto di tanti talenti individuali ma anche di grande lavoro collettivo che credo che sia l'obiettivo principale del del nostro ateneo senza dimenticare che per noi primati non sono mezzi sono mezzi e non sono fini sono mezzi per contribuire tramite una ricerca sempre più libera e ambiziosa al bene di tutti mi fermo qua perché credo che sia più importante lasciare spazio alle parole e all'intervento del professor blangiardo che ringrazia ancora di essere qui con noi in questa bellissima sala buon proseguimento a tutte e a tutti bene ringraziamo il magnifico rettore per il suo intervento il suo saluto lo salutiamo perché sappiamo che altri impegni istituzionali lo devono allontanare da questa sala per cui grazie ancora magnifico rettore e adesso do la parola alla professoressa paola monari che è stata l'organizzatrice di questo evento è stata pro rettore all'epoca del professor calzolari del rettore calzolari ci sono altri pro rettori presenti e il pro rettore vicario e professor busetto appunto e il professor tega che era pro rettore alla didattica e qui diciamo e poi forse anche altri che io non ricordo però ricordo io ricordo in particolare il professor tega perché all'epoca ero presidente del corso di laurea e interagivo con lui per una operazione particolarmente complessa e faticosa che è stata quella della riforma del corso di laurea in medicina e chirurgia pensate da 56 esami siamo andati a 33 voi sapete conoscete l'animo dei professori universitari togliere 23 esami di cui i professori erano titolari è stata un'impresa non facile ma l'abbiamo portata a termine adesso nessuno tornerebbe indietro bene grazie a voi per essere presenti grazie paola ti cedo il microfono la facciamo così grazie grazie presidente io non ho bisogno di andare là perché la mia statura non è ovviamente all'altezza di quella del magnifico magnifico rettore presidente volondi gentili soci e ospiti il gruppo degli amici di pierugo calzolari si è proposto di riprendere le pierugo calzolari lectures dedicate a questo nostro rettore scomparso dopo una lunga e difficile malattia per ricordarne l'opera innovatrice un'opera che ha portato la nostra università al top delle classifiche internazionali dopo che grazie a un altro grande rettore fabio roversi monaco l'ateneo aveva riconquistato la sua fama mondiale di più antico e prestigioso ateneo del mondo occidentale con pierugo calzolari l'università di bologna ha portato avanti una svolta innovatrice organizzando quasi da zero l'area della ricerca e della internazionalizzazione della didattica della comunicazione e dei servizi agli studenti e ha creato un sistema di governo altamente democratico e coeso tra senato accademico consiglio di amministrazione giunta e commissioni e oggi questo stile è stato portato avanti dai rettori che sono seguiti dopo di lui e in particolare come avete già sentito dalle parole del nostro magnifico rettore giovanni molari ancora questo pensiero va avanti le lecture si sono purtroppo come abbiamo appena ricordato con la pandemia ma fino ad allora avevano visto come relatori personaggi illustri della cultura italiana e non solo come Umberto Eco, Romano Brodi, Gustavo Zagrebeschi, Edgar Morin, Patrizio Bianchi e per ultima Giuseppina La Face con Laura Marzadori brillante violinista bolognese ora violino nell'orchestra della Scala di Milano che Pierugo Calzolare conosceva da bambina e tanto ammirava oggi dopo dieci anni dalla scomparsa vogliamo riprendere ancora una volta la memoria di Pierugo Calzolare con un altro protagonista della vita culturale e istituzionale italiana il presidente dell'Istat professor Giancarlo Blangiardo che generosamente ci ha dato la sua disponibilità chi è Giancarlo Blangiardo è il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica è lo stratega che quotidianamente ci aggiorna sullo stato della società delle famiglie dell'economia della scuola della sanità insomma è colui che ci rimanda la fotografia del nostro paese ed è una grande responsabilità che ha portato con onore e speriamo che potrà continuare a nella sua opera Giancarlo Blangiardo inizia la sua carriera di statistico nel 1973 alla Cattolica di Milano poi passa all'Università degli Studi di Milano e infine a Milano Bicocca i suoi interessi di ricerca si sono concentrati sulla metodologia statistica ma soprattutto sulla demografia e la statistica sociale è stato presidente della commissione Istat sugli aspetti tecnici e metodologici del censimento della popolazione componente del comitato per la stima della povertà assoluta ha fatto parte delle commissioni Istat sulla misura del benessere ha collaborato alla definizione dei collegi elettorali plurinominali e conosce molto bene il nostro paese ed è stato ed è membro di diversi comitati nazionali e regionali per lo studio delle trasformazioni demografiche un tema che oggi è di assoluta attualità e anche forse di emergenza si è dedicato con particolare attenzione ai problemi di esclusione sociale e povertà ed è autore di diversi rapporti sull'immigrazione e sulla integrazione sociale è autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche e collaboro con prestigiosi quotidiani come il sole ventiquattro ore e avvenire dal 2019 presidente dell'istituto nazionale di statistica oggi abbiamo il piacere il privilegio di ascoltarlo in questo viaggio alla scoperta del patrimonio demografico realtà prospettive e problematiche dell'Italia del ventunesimo secolo grazie presidente grazie bene buongiorno a tutti grazie eh grazie per l'invito grazie a all'Accademia suo presidente e suoi membri al magnifico rettore all'amica Paola Monari eh mi fa piacere essere che questo mio piccolo contributo avvenga all'interno di un'iniziativa particolarmente importante e soprattutto legata alla figura del professor Calzolari che ha svolto un ruolo fondamentale e riconosciuto non solo a Bologna ma direi a livello nazionale e internazionale il tema di cui oggi io mi occupo no il problema demografico già il fatto stesso di dire problema eh in qualche modo anticipa eh quasi le conclusioni diciamo stiamo parlando di una cosa problematica io lo farò con la con gli argomenti con con la voce della statistica dei numeri dei dati cercando di mh mettere in evidenza cosa succede cosa potrà succedere quali conseguenze potranno esserci quindi come affrontare un futuro che ci coinvolge tutti che coinvolge noi le generazioni che vi avverranno e che eh richiede attenzione intervento e magari un mix un pizzico di lungimiranza allora avere la strada descritta avere i numeri avere le informazioni dovrebbe aiutare chi poi decide in relazione a quali che sono i risultati e gli obiettivi che si va a porre gli interventi cioè l'azione la parte operativa ora cosa ci racconta il numero? Cercherò di farlo in una maniera magari un pizzico un po' più originale rispetto al solito dato i nati i morti eccetera eccetera ma la sostanza è quella cioè cerchiamo di cogliere attraverso gli strumenti delle elaborazioni statistiche eh ciò che accade e ciò che ne deriva come conseguenza se riuscissi a far andare questa cosa ecco ci piace allora il conteggio delle teste no? In demografia contiamo le persone contiamo gli eventi ecco questo è un grafico tre linee la linea quella centrale quella che va su parte da 26 mila che poi vuol dire 26 milioni i dati sono per mila e arriva a finale di 59 milioni 59 mila e vedete che la popolazione residente la popolazione italiana è sempre cresciuta naturalmente il confronto ai confini allora ai confini di oggi è sempre cresciuta breve parentesi nella fine prima guerra mondiale quindi 17 18 e poi continua a crescere continua a crescere però a certo punto nel 2014 dal 2014 in poi incomincia cominciamo a perdere popolazione abbiamo raggiunto la punta di 60 milioni 295 mila oggi siamo scesi a 59 milioni e 30 mila che stiamo parlando di un milione 300 mila circa 200 mila persone in meno quindi la popolazione italiana si sta riducendo il grande paese paese del g6 g7 g8 g20 cioè una delle grandi passatemi in termine potenze internazionali da tanti punti di vista smetta rischia di smettere di essere una potenza demografica il lussemburgo è ricco ma non è un grande paese noi siamo un grande paese anche perché abbiamo una popolazione consistente le altre due linee nati e morti quella sopra sono i nati quella sotto sono i morti sempre più nati che morti escludiamo la parentesi solita parentesi fine prima guerra mondiale peraltro un milione e trecentomila morti per epidemia di spagnolo insomma era un anno particolare il diciotto anche il diciassette non è stato bellissimo dicevo le due curve sono distanti non si non si toccano neanche durante la prima guerra la seconda guerra mondiale poi c'è milione e trentacinque mila nati baby boom anni sessanta metà anni sessanta poi incomincia la discesa e vai e vai e vai arriviamo a far sì che le due curve si 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 equivalgono quindi i nati e morti coincidono quindi crescita zero saldo naturale zero almeno da questo punto di vista poi c'è il sorpasso i morti vanno in alto i nati scendono in basso dal duemila e otto i cinquecentosettantasette mila nati del duemila e otto sono andati via via anno dopo anno regolarmente diminuendo fino ai quattrocentomila del duemila e ventuno abbiamo negli ultimi anni ogni anno realizzato il record della più bassa natalità di sempre se vedete i punti di quella linea rispetto al passato mai così in basso peraltro mai così in basso con una popolazione più grande ecco questo già ci dovrebbe dire qualcosa riassunto della nostra storia i 26 milioni sono diventati 59 c'è curiosità abbiamo vissuto complessivamente 7 miliardi di anni di vita questo è un gioco non è una una grande considerazione scientifica così è una curiosità eh la settimana mistica come si usava una volta 142 milioni di nascite complessivamente 105 milioni di morti e poi se andiamo a fare i conti di quel che resta tra entrate e usciti quindi immigrati ed emigrati alla fin fine da paese di emigrazione a più recentemente paese di immigrazione il conto è ancora negativo siamo sotto di 4 milioni ecco queste sono le teste cioè i numeri delle teste dietro l'angolo allora proviamo voltare pagina dice come fai eh Istat produce le previsioni demografiche lo fa in maniera scientifica in maniera accurata con certe metodologie riconosciute come valide eh lo aggiorna no mai l'obiettivo è quello ogni anno aggiorneremo il quadro lo scenario si arriva diciamo avanti di una cinquantina d'anni ma insomma questa è la storia che andiamo andremo a vivere andranno a vivere i cinquantanove milioni eh la linea azzurra scendono la scala è quella di destra scendono a quarantotto milioni scarsi cioè spariscono undici milioni di persone in grande paese si restringe nati e morti linea verde e morti così con ottimismo linea rossa i nati come vedete le differenze ci sono le differenze restano le differenze si accentuano arriviamo nel 2017 con 750 mila circa morti e con 350 mila 60 mila se volete la metà meno della metà dei nati ora niente di grave nulla è drammatico però certamente qualche riflessione questa la comporta e questa non è fantascienza questa è estrapolazione su base scientifica di una realtà di cui stiamo vivendo oggi le manifestazioni più evidenti e qui lasciamo la la tradizione proviamo a fare un discorso un tantinello un po' fuori dalle righe la domanda cioè quanto futuro c'è nella popolazione cioè passiamo dagli individui un'altra cosa che come è stata ricordata come ha ricordato prima Paola eh io a me piace chiamare il patrimonio demografico dice il patrimonio perché il patrimonio sono dei beni sono delle ricchezze no? Beh gli anni di futuro non sono delle ricchezze eh c'è uno un illustre demografo Marcello Boldrini molti lo conoscono eh il quale disse questa cosa diciamo pure di buon senso no? Tra due soggetti chi è più ricco? Quello che ha in tasca più monete? Contiamo le monete o contiamo il valore che sta scritto sulle monete no? Dieci monete da 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 un cento a cinque centesimi non fanno una moneta da due euro quindi quando andiamo a stabilire le caratteristiche di una popolazione non basta contare le teste andiamo a vedere anche come sono fatti e andiamo a vedere rispetto potremmo vedere molte caratteristiche intendiamoci ma andiamo a vedere rispetto a quelle che sono le caratteristiche più significative che più lasciano il segno nell'organizzazione della società negli effetti nelle conseguenze nel vivere comune cioè struttura per esempio per sesso ed età allora partendo da questa considerazione l'idea è quella di dire eh costruiamo il patrimonio cioè eh domanda dice quanto vale un anno di vita in più? E dice se uno viene qui arriva l'arcangelo Gabriele e dice ma sì dai dammi cinquemila euro e ti regalo un anno a voglia io non so chi qua dentro non ci sta eh magari ovviamente in buona salute quanto saremo disposti a pagarlo? Allora eh già paghiamo un prezzo quando andiamo in giro come dei disperati a correre sudati no? Eh alle sei di sera dopo il lavoro perché dice fa bene al fisico no? Ci serve a ci tiene in salute ci allunga la vita stiamo pagando un prezzo stiamo comperando non pagandoli in moneta ma pagandoli in altro modo stiamo comperando un anno di vita non so probabilmente uno magari mi auguro pure più di un anno di vita no? Quindi indubbiamente stiamo parlando di un bene d'altra parte nella nella visione comune un giovane che porta a casa mille euro al mese e un ottantenne che ne porta a casa cinquemila che è più ricco quello che ha davanti tutta una vita eh è inutile non è inutile nascondercelo quindi è il patrimonio demografico un paese che ha tanti anni o meglio la cui popolazione ha tanti anni di futuro è un paese che ha un ricco patrimonio demografico è un paese ricco è un paese eh per certi versi più autorevole è un paese il cui debito pubblico è più eh credibile cioè se se il banchiere se va un signore di novant' tanti anni chiede il mutuo al di là delle risorse chiaro può avere mille garanzie di vario genere ma ragioniamo al di là delle garanzie è ben diverso che se va un trentenne quindi è chiaro che c'è c'è un elemento c'è un bene e questo è l'elemento da cui così vorrei fare un minimo di riflessione perché la domanda è ma allora eh quanto futuro c'è e soprattutto come si fa a costruire il futuro o a consumare il futuro cioè io addirittura una volta avevo stabilito una sorta di pil demografico cioè un pil che non è tanto quello classico che tutti noi andiamo raccontando no più tre sette più tre cinque vi andare mille ottocento miliardi ma eh è il pil eh cioè eh fatto da questo bene che sono gli anni di futuro di una popolazione che vengono casualmente regolarmente prodotte allora come si fa a costruirlo? Beh riflessione eh un ventenne ha davanti a sé sessant'anni sessant'un anni di aspettativa di vita alle condizioni di oggi poi gli va pure meglio perché in genere le cose migliorano nel tempo allora se noi abbiamo duecentonovantanovemila trecentomila maschit ventenni e ognuno di questi ha sessant'anni sessant'un anni di aspettativa di vita tutti loro insieme appassionatamente avranno diciotto milioni e centottantadue mila anni il gioco è semplice se queste operazioni che io faccio per i ventenni lo faccio anche per le femmine lo faccio per i trentenni quarantenni cinquantenni e così via arriva a due miliardi duecentos e settantaquattro milioni di anni di futuro quindi la popolazione italiana nel suo complesso ha davanti a sé più di due miliardi di anni di futuro vogliamo esagerare scomponiamoli in anni a fare cosa beh definiamo dei paletti dice allora si studia passatemelo per buono fino a vent'anni cioè ci si forma fino a vent'anni si incomincia ad essere produttivi fino al sessantasettesimo compleanno e poi si diventa pensionati allora scomponiamo i due miliardi e rotti in queste tre componenti e viene fuori questa roba qui non è difficile farlo ma quello che è rilevante in questo gioco è il confronto per esempio degli ultimi due pezzi cioè il rapporto tra anni di produzione e anni di pensione e magari la scoperta che più vai avanti e più queste due cose si avvicinano e poi a un certo punto c'è un sorpasso e poi se volete gli anni di produzione sono anche gli anni con cui un paese come il nostro con non mi ricordo se sono duemila e cento miliardi di debito pubblico eh di debito eh devi devi restituirlo quindi se io eh standard and poor o che so io decide di attribuire le stelline anche in relazione per esempio al rapporto tra il debito e gli anni di lavoro che quella popolazione ha davanti a sé è fuori dalle righe anche questo però spazio alla fantasia perché non tenere conto anche di questa diverso ottica ebbene queste sono alcune considerazioni considerazioni che si possono anche che ci possono anche portare a fare una roba del genere una sorta di bilancio facciamo il bilancio del patrimonio demografico dell'anno duemila e ventuno è stato un anno con quattrocentomila nati è stato un anno con settecentumila morti con novantacinque mila eh diciamo tra immigrati e demigrati tenuto conto anche delle correzioni di natura censuaria e questo è il bilancio un bilancio normale di qualunque azienda conto patrimoniale e conto economico stato patrimoniale e conto economico per capirci siamo partiti con due miliardi duecentonovantasei milioni di anni vita all'inizio dell'anno abbiamo finito con due miliardi duecentosettantaquattro milioni di anni vita cioè nel duemila ventuno abbiamo perso ventun ventidue miliardi quasi di futuro dice come lo abbiamo perso no il concetto da ragioniere no differenza utile come differenza tra patrimonio iniziale finale oppure conto economico che descrive come si arriva a quell'utile bene il conto economico cosa ci dice che le perdite sono derivate da morti per sei milioni perché perché quando uno muore a purtroppo a cinquant'anni si perde la sua vita residua consumo per sopravvivenza ciascuno vivendo si è mangiato una parte della propria esistenza le entrate nasce un bambino questo bambino si porta nello zaino se è un maschio 81 anni se è una femmina 85 di futuro arriva un immigrato giovane vale lo stesso discorso e quindi questo era il pil demografico che viene prodotto cioè il pil in termini di anni di futuro il finale della storia come tutti i bilanci per bene la stata patrimoniale quanto profitte perdite quadrano e come vedete la differenza è ovviamente la perdita dei 21 milioni quindi il messaggio che viene fuori da questi dati è siamo un paese che si sta mangiando il futuro ho fatto anche il calcolo su Bologna o meglio sulla città metropolitana di Bologna è molto semplice con un foglio di excel questa roba qui ci vuole poco a farla nell'anno 21 parlo della città metropolitana 6.000 7.000 nati circa 12.000 13.000 morti quindi non è che siamo proprio stiamo benissimo un saldo migratorio positivo per circa 1.100 sempre tenendo conto anche delle corruzioni censuarie e questo è il bilancio la città metropolitana di Bologna si è mangiata quasi 400.000 anni di futuro poi lì sulla colonna esterna ci sono il pro capite perché chiaramente ecco vabbè può essere come dire un gioco ha una sua originalità ma credo che abbia anche un suo contenuto in termine di messaggio dopodiché un'altra cosa che mi piace sottolineare è questa no qui ci sono tutte le città metropolitane le 14 città metropolitane d'Italia no Torino Genova Milano fino a Cagliari come vedete se noi in ciascuna di queste Bologna compresa i dati di sinistra sono quelli della città di Bologna mettiamo in relazione due cose cioè l'età media cos'è l'età media gli anni vissuti mediamente vissuti e l'aspettativa media gli anni da vivere quindi pro capite ci vengono fuori queste robe su Bologna 47 anni di passato 38 anni di futuro 8 anni e mezzo in meno e il futuro la strada da percorrere è di 8 anni più corta rispetto a quella che in qualche modo abbiamo già percorso lo stesso vale per tutte le città metropolitane parliamoci chiaro non è solo Bologna ma qual è il senso di questa cosa il senso di questa cosa è adesso pensavo ce ne fosse un'altra ma ve la dico a voce in realtà non c'è il senso di questa cosa è questo che laddove una popolazione ha una strada da compiere che è inferiore a quella che ha già fatto potrebbe avere meno incentivi a rimboccarsi le maniche fare i sacrifici e investire nel futuro c'è questo gioco fatto su Bologna prima se provate a farlo sull'Italia prende i dati del 1951 miracolo economico e i dati di oggi scoprite che mentre negli anni 50 la strada da percorrere era allergamente più abbondante di circa 8-9 anni mi sembra di ricordare rispetto a quella già percorsa quindi un popolo proiettato nel futuro un popolo quindi più disponibile a fare cose per costruire il proprio futuro in quella più recente la situazione è esattamente l'opposto niente male il rischio è che si dica vabbè ma in fondo chi ce lo fa fare cioè gestiamo l'ordinaria amministrazione non andiamo a cercare l'investimento e l'innovazione un signore di 90 anni difficilmente si mette a imparare delle cose di informatica o il cinese perché dice sì va bene però un ventenne è più facile che lo faccia ecco questo è un po' un po' la logica e questo è un po' in un certo senso il messaggio che in qualche modo viene fornito dai numeri ora dietro a tutto quello che ci siamo detti che abbiamo visto adesso è chiaro che c'è un grosso punto di riferimento che è questo il problema demografico nasce e lo abbiamo visto nella prima nella prima slide nelle tre curve che vi ho presentato all'inizio il problema demografico nasce sostanzialmente per il discorso legato dalla natalità è la frequenza di nati ora queste quattro curve che vedete sono i valori mensili fino a novembre perché istat ha messo in circolazione a tuttora solo per il 22 fino al mese di novembre quindi è un confronto tra 19 20 21 22 pre pandemia periodi pandemici e post mettiamola così al di là del su e giù i mesi naturalmente anche durata diversa quindi c'è anche un effetto come dire di stagionalità di durata del numero di giorni però quello che si nota subito è che al di là adesso non entro negli effetti della pandemia dovremmo fare altri discorsi ma c'è stata una botta e questo l'abbiamo visto da tanti punti di vista ma c'è anche stato però un abbassamento costante continua la curva rossa è quella relativa al 22 che come vedete è decisamente più in basso questo ci porta a immaginare se andiamo a fare i conti e confrontiamo gli 11 mesi del 22 con gli stessi mesi dell'anno prima che era quello dei 400 mila nati scopriamo che nel 22 siamo sotto del 3 per cento nei primi 11 mesi attenzione fra poco qualche corretto quando uscirà il dato vero definitivo scopriremo che qualcosa è stata recuperata perché non tutti i comuni trasmettono le informazioni in tempo reale all'anagrafa centralizzata ci sono aspetti diciamo metodologici però al finale della storia è quello io sono pronto a scommettere che molto quasi certamente il 400 mila verrà superato al ribasso non magari di tantissimo ma verrà ulteriormente migliorato in negativo il record che abbiamo stabilito negli anni precedenti e questa è un'altra delle situazioni che dobbiamo affrontare questa è la città di Bologna come vedete questi sono gli andamenti le variazioni rispetto alla bella scala di Bologna immagino sia sulla destra quella dell'Italia sulla sinistra dicevo queste sono le variazioni cioè Bologna si difende rispetto alla media nazionale se vogliamo essere onesti però partiva già da valori abbastanza bassi comunque il 3200 va a scendere il valore era raggiunto nel 13 è sceso a 2.6 nel 22 scenderebbe al 3 nel 22 in qualche modo stimando anche il dato del mese di dicembre allora il discorso è se ne viene fuori se ne può venire fuori ecco questo è un altro esercizio che credo sia abbastanza utile e cioè allora voi sapete che alla base del diciamo di tutto delle nascite c'è quella che si chiama la fecondità cioè la propensione a far figli allora quanto gli italiani fanno figli misurati in un certo modo con una cosa che è il tasso di fecondità totale o chiamato in altri modi ma non importa è 1,25 ci dice che nell'anno diciamo del 21 sulla base del comportamento alle diverse età delle donne italiane il numero medio di figli per donna in tutta la sua vita riproduttiva è 1,25 quindi vuol dire che le donne in tutta la loro vita in media mettono al mondo metterebbero al mondo se il modello è quello metterebbero al mondo un figlio un pezzettino 1 e 2 1 e 3 fate voi ora è evidente che per ricambiare una popolazione donna e uomo insieme devono farne almeno due 1 e 25 e meno di due quindi siamo largamente sotto ricambio generazionale ma questo lo sapevamo abbondantemente è una cosa che succede da lontano 1977 poi via via siamo scesi sempre più in basso però questo è un qualcosa che già c'era però il gioco consiste in questo dice va bene immaginiamo di cambiare la situazione o meglio immaginiamo se la lasciamo così cosa succede allora la linea punteggiata gialla è l'andamento di sto benedetto tasso di fecondità totale se 1 e 25 rimane 1 e 25 il numero di nati cioè la frequenza di nascite corrispondente fatti gli opportuni calcoli è la linea gialla che vedete sopra 400 mila come punto di partenza la scala a destra 400 mila come punto di partenza e si scende si scende si scende a 250 mila questo se la fecondità rimane ferma ma speriamo che non succeda allora immaginiamo che non rimanga ferma immaginiamo che l'1 e 25 vada a raggiungere nei prossimi 40 50 anni almeno arrivare a 1 e 5 e quindi passiamo alla linea azzurra punteggiata azzurra vedete da 1 e 25 va va e va la scala quella di sinistra a 1 e 5 che succede ai nati andiamo sulla verso sul versante nascite cioè la linea azzurra delle nascite i 400 mila quelli sono nella partenza tengono leggeri persino un leggero aumento poi ridiscendono poi si stabilizzano su 350 mila cioè quando anche recuperassimo la fecondità il numero di nati la frequenza di nati rimane sotto e poi si attesta sotto facciamo un miracolo immaginiamo che si arrivi da 1 e 25 a 1 e 9 quasi due figli per donna linea verde punteggiato verde sale alla grande corrispondenza e nascite eccoli là i 400 mila di partenza aumenta su giù per qualcosa insomma arriviamo a 500 mila vi ricordo che nel 2008 eravamo già a 577 mila quindi non arriviamo neanche a recuperare il valore del 2008 del prima della caduta finale dice c'è l'imbroglio qual è il trucco mancano le mamme cioè io posso io posso prendere galline che fanno più uova scusate il confronto ma se ho meno galline alla fine le uova sono meno di prima ora è evidente che la demografia diceva un vecchio saggio si vendica di chi la dimentica cioè tu oggi e domani sconti le conseguenze del ieri e se ieri le nascite sono state poche e quindi sono venute al mondo poche bambine e se le bambine rimangono qui e quelle bambine lì saranno le mamme del futuro e se erano poche da bambine saranno poche da mamme questa è la distribuzione senza esagerare si arriva quindi fra 15 anni quindi non sono andato troppo in là ma sono le due curve e oggi nel 22 distribuzione per l'età della proporzione femminile dai 15 ai 49 anni è la linea blu nera azzurra mettiamola così e quella invece rosso nera io non sono né milanista né interista e quell'altra sotto come vedete è largamente inferiore tanto per darvi un'idea oggi ci sono 12 milioni di donne in età feconda dai 15 ai 49 anni nel 2070 i 12 milioni sono diventati 8 milioni secondo l'ipotesi quella che chiamiamo mediana centrale per certi versi più verosimile quindi evidentemente anche qui è un qualcosa già scritto questo è un quadro astratto carino no? i colori li mette Excel però è bello perché va su e giù e su che sono ste cose? è il numero medio di figli per donna è quella roba di prima per le 107 province e va su giù va su e giù va su e giù si fa per dire va più giù che su perché salvo qualcosa in alto è un groviglio sbrogliamo la matassa alla ricerca di qualcosa di interessante allora andiamo a sbrogliare la matassa prime sei ultime sei tanto per capirci le ultime della classe sono ai noi sul Sardegna Oristano Caglia Risernia Campobasso soprattutto la Sardegna dove siamo sotto un figlio per donne quelli bravi? Beh quelli bravi Trento Modena Bolzano Bergamo Brescia Reggio Emilia che più o meno bravo non è detto che non si non scendano anche loro intendiamoci ecco diciamo la vera eccezione cioè l'unica serie che esce dal coro e e si ritiene fuori è quella gialla chi è quella gialla è la gialla Bolzano colpo di scena Bolzano ha una fecondità non dico a livello francese ma insomma diciamo che non è molto lontano allora a questo punto cosa fa il la curiosità scientifica dice andiamo a vedere cosa succede a Bolzano ma com'è che 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 qual è la sappiamo tutti che Bolzano è una provincia autonoma parliamoci chiaro ma dice vabbè ma basta quello cioè basta l'etichetta la Sicilia è una regione autonoma però non è mica la stessa cosa quindi non basta la targa allora proviamo a chiedere noi ringraziando il cielo in Istat abbiamo un ufficio territoriale locale quindi sono andato a chiedere al nostro agente a Lavana di dire senti per favore fammi una piccola relazioncina su come funziona la 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 fecondità le nascite il il discorso dell'assistenza degli aiuti degli interventi nella provincia di Bolzano fuori dal coro allora qui queste sono parole quindi mi limito a alla parte rossa spero di non avere di non sto esagerando no non sto esagerando allora cosa succede a Bolzano beh in tasso intanto un forte tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro e questo vuol dire già ci dice che se la donna lavora può anche avere una fecondità alta non è mica detto che deve stare per forza a casa prima informazione e qui vabbè ci è cresciuto rispetto ad altre zone d'Italia eccetera settore pubblico e vabbè settore pubblico è ovviamente un pochino più protettivo no noi stessi come Istat io avevo prima che arrivasse il covid eh proprio perché dico io faccio il demografo c'erano i sindacati quindi avevo incontro con i sindacati e quindi prima che ci fosse la distanza quelle cose lì avevo detto ma se qualcuno ha problemi di natura familiare studiamo delle modalità con cui in parte si possa lavorare per star dietro ai figli ai genitori malati o il che so io questo prima ancora che nascesse l'agenza del covid ci siamo dati da fare abbiamo acquistato un certo numero di computer e fatto delle cose varie accordi di vario genere e abbiamo iniziato a fare un pizzico di lavoro a distanza volontario controllato selezionato e quant'altro poi è successo quel che è successo e quella nostra sperimentazione ci ha aiutato ad essere immediatamente in pista per andare a generalizzare la procedura quando eravamo tutti costretti a stare in qualche modo ciascuna a casa propria ma quella quella quell'iniziativa lì eh era giustificata io l'avevo detto in maniera molto esplicita inutile che vada a dire tutte le volte conciliazione aiuti bla 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 sono in un posto dove posso prendere delle scelte in questo senso proviamoci mi sono venuti dietro ci abbiamo provato quindi è chiaro che eh poter lavorare con un discorso legato alla lente pubblico che può essere più disponibile eh tempo parziale lessibilità nell'orario di lavoro e perché perché questi lavoratori per esempio part time se prendono il part time proprio per cioè abbiamo verificato che almeno in provincia di Bolzano c'è un utilizzo di questi strumenti per attivare quella che chiamiamo quando facciamo i bei discorsi la conciliazione c'è la possibilità di essere contemporaneamente genitori e eh eh madri e padri rispettivamente ecco qui adesso non sto a commentare le cose scritte perché tanto eh le potete vedere però è chiaro che c'è una profonda differenza nell'utilizzo di questi strumenti tra coloro che hanno figli magari che hanno figli piccoli rispetto a coloro che non hanno lo so che la scoperta dell'acqua calda però qualche volta la statistica aiuta a scoprire l'acqua calda ma lo fa con la dimensione chiara cioè si sa che una cosa va così ma ti dico che le percentuali di confronto sono 66 per cento due terzi a fronte di un quinto che ha i figli lo usa per due terzi chi non ce li ha lo usa per un quinto quindi evidentemente c'è un effetto ed è un effetto misurabile o il vantaggio che se poi la cosa si evolve in un certo modo i numeri mi danno la possibilità di capire gli effetti di monitorare gli effetti degli interventi il tutto peraltro tanto per dire con una grande attenzione da parte dei dei bolzanini nei riguardi delle famiglie quindi la famiglia è un valore e quindi il concetto è la famiglia è un valore la famiglia ci piace la famiglia coi figli ci piace eh ci sono delle difficoltà che ci impediscono di ci date una mano a superarle e noi facciamo quello che ci piace naturalmente in chiave moderna quindi nessuno deve fare figli che che non vuole fare intendiamoci ecco allora questo eh io credo che sia una lezione una lezione importante non è detto che auristano si riesca a ripetere il modello di bolzano intendiamoci però c'è un riferimento cioè io so che quella è una possibile via poi la adatto localmente magari ci aggiungo delle altre cose chiamo in causa altri soggetti faccio interagire che so il mondo imprenditoriale il privato sociale ognuno può interpretare la ricetta con gli ingredienti che ritiene opportuno aggiungere però come gli elementi base portanti di quella ricetta possono anche essere quelli che provengono da iniziative da esperienze come quella che vi ho raccontato io sono una persona di quelli che ama seguire cioè io non mi danno fastidio quelli che prendono in mano un microfono e poi non lo mollano più qual è il seguito della storia perché questo era un po lo scenario se volete in qualche modo la la diagnosi e qualche segnale di terapia e quali sono le conseguenze cioè che succede al malato se nessuno fa niente qual è l'evoluzione che andiamo ad incontrare beh diminuisce il potenziale produttivo che i famosi 11 milioni che ci siamo persi prima sono tutti qua dentro cioè 36 milioni di popolazione in età lavorativa diventano 25 milioni di popolazione in età lavorativa diciamo aumenta la produttività speriamolo perché se non aumenta sono guai questo definendo i confini attuali adesso dico qualcosa che mi odirete poi ci sono dei signori tra i quali faccio aperto anche il sottoscritto 67 74 5 milioni mica quattro gatti che sono lì possiamo mandarli a giocare a bocce oppure digli qualcuno di voi ha voglia di continuare a fare delle cose mettiamoci d'accordo diamo un incentivo diamo flessibilità diamo tutto quello che può essere utile non servono più i muscoli basta avere un cervello che gira oggi per essere funzionali e questo può dare una mano a recuperare gli 11 milioni che spariscono cioè voglio dire non possiamo buttare al vento in un paese che va in questo modo risorse che sono preziose in una società in cui la vita si allunga in cui la forza fisica che è quella che inevitabilmente ciascuno di noi perde è sempre meno rilevante per garantire capacità e funzionalità in un sistema produttivo vogliamo farlo un discorso di questo genere poi lo facciamo con tutti i carismi della democrazia del consenso di quello che volete voi però a me sembra sciocco rinunciare a priori cioè definire una legge che dice basta da questo momento in poi non lo puoi più fare io lo trovo stupido scusate la franchezza ha naturalmente nelle previsioni eh ci sono dentro centotrentamila immigrati annui netti non è che dice voi ma ci pensa all'immigrazione già qui c'è dentro l'immigrazione nel centotrentamila certo uno dice anziché centotrentamila fossero cinquecentaventimila le cose si sistemano mi verrebbe da dire però poi i cinquecentoventimila gli devi dare mica solo il lavoro gli devi dare la casa gli devi dare i servizi devi dare tutte tutto ciò che serve anche alle relative famiglie cioè l'integrazione è una bella parola però non viene magicamente dall'alto e i numeri nel fare integrazione hanno il loro peso poi possiamo discutere centotrentamila è poco ne facciamo di più non importa però anche questo è un elemento da mettere in conto welfare variazioni sul welfare ottocentomila prendo il dato macroscopico ottocentomila persone con almeno 90 anni oggi due milioni duecentomila nel settanta cioè due milioni duecentomila ultra novantenni con dentro cento quarantacinquemila ultra centenari oggi sono ventimila che bello ce lo possiamo permettere cioè come si fa a tenere in forma dignitosa parlo della sanità in termini sanitari garantire una vita dignitosa a due milioni e duecentomila persone con almeno 90 anni si può fare forse però bisogna avere i pozzi di petrolio quindi solo in basilicata lo possiamo fare perché se no se no costa e se no bisogna capire come fare a farci che si possa fare perché si deve fare e come come renderla compatibile anche perché le famiglie sono quasi alla fine anche perché le famiglie che piaccia o non piaccia sono comunque un supporto fondamentale soprattutto per i discorsi legati al welfare diventano più numerose ma più fragili perché è chiaro che se non hai figli e non c'hai figli se ce n'hai uno solo questo non c'hai fratelli quindi se c'è da passare la notte in ospedale c'è lui e lui e lui mancano i cugini gli zii le reti tutto quello che in qualche modo fa welfare familiare che non è il familismo mafioso c'è anche probabilmente c'è anche tante famiglie sane che sono la netta maggioranza che si danno una mano tra di loro e che ringraziando il cielo si danno una mano tra di loro ecco comunque la tendenza le tendenze dal punto di vista della degli aspetti legati alle famiglie faccio notare faccio uno spot istat ha ricominciato da l'anno scorso credo a fare anche le previsioni delle famiglie che erano ferme dal 95 se ricordo bene e quindi anche questa è un'altra di quelle cose che siamo intenzionati a fare regolarmente a portare avanti a mettere a disposizione perché riteniamo che sia un altro degli elementi un'altra delle informazioni che aiutano a chi deve decidere a cercare di farlo nella maniera migliore ancora qualche rapida conseguenza credo che siamo veramente alla fine allora tutto quello al di là del welfare al di là del mercato del lavoro parliamo del mercato i consumi cosa sono queste robe qui queste cose qui sono anche qui un altro esercizio così un gioco chiamatelo pure se vogliamo forse più seriamente un esercizio si prende la struttura per età della popolazione si prende il numero delle famiglie si prendono i parametri oxe quelli che dicono in una famiglia il primo componente consuma per uno adulto gli altri adulti consumano per 0 5 quelli con meno di 15 anni consumano per 0 3 combinando l'informazione su struttura della popolazione il numero di famiglie è un che si fa anche qui banalmente con un foglio di excel si va a determinare il numero di unità di consumo che di per sé non serve a niente non dice granché dice molto o comunque dice una cosa interessante la sua variazione nel tempo perché a memoria ricordo che per l'italia sono 41 milioni credo l'unità di consumo ma quello che può essere interessante capire che le 41 milioni di unità di consumo nei prossimi 20 anni si riducono del 3 per cento come dire la domanda aggregata se quella è la domanda in qualche modo subisce una riduzione grezza e intendiamoci nell'ordine del 3 per cento e la domanda se mi scende la domanda scende la produzione scende l'occupazione scendono i redditi eccetera 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 e qualche problema c'è se poi andiamo sul locale quindi non il dato nazionale il 3 per cento ma andiamo sulle diverse regioni e qui vabbè l'Emilia Romagna se la cava così come il Trentino e la Lombardia cioè addirittura hanno una avrebbero ammesso che gli scenari siano realistici un leggero aumento neanche tanto leggero per il Trentino ma però il mezzogiorno è un delirio nel mezzogiorno la domanda aggregata scenderebbe che so in Basilicata del 12 per cento è vero che c'è nel petrolio insomma in Molise del 10 in campagna credo cosa viene dove sono perso la campagna in campagna del 4 del 5 in Calabria Sicilia cioè nel mezzogiorno abbiamo una variazione consistente perché il la crisi demografica è e nei prossimi anni sarà così e sarà soprattutto nel mezzogiorno d'Italia quindi anche qui se dovete fare il supermercato non andate a metterlo a Cosenza magari mettete la Reggio Emilia dove le cose possono continuare a resistere e questo comunque anche qui altre informazioni che aiutano in qualche modo poi deve fare delle scelte a fare queste cose per quanto riguarda invece la ricchezza nazionale prodotto interno lordo sulla sinistra vedete le sequenze no 1782 miliardi è il dato del 21 non so se è stato fatto in base all'ultima correzione ma sono sciocchezze miliardo più miliardo meno sono piccole cose qui c'è questa giochino di scomposizione niente di geniale e poi un classico lo faceva Antonio Golini 20 anni fa c'è il prodotto interno lordo valore assoluto si scompone in quelle robe lì che come vedete sono delle identità che si semplificano numeratore e denominatore di quello dopo si potrebbero semplificare insomma in poche parole il finale della storia dice i 1800 miliardi o 1700 rotti miliardi sono il risultato di una moltiplicazione di una serie di cose che sono la produttività l'occupazione la partecipazione al mercato del lavoro la struttura demografica cioè popolazioni percentuali di popolazione interlavorativa o frazioni di popolazione interlavorativa e numero di abitanti popolazione quindi quelle cinque cose lì moltiplicate tra di loro uno due tre quattro cinque si moltiplicati tra di loro danno il 1800 miliardi ora ne segue che se una di quelle cose lì aumenta i 1800 miliardi aumentano se diminuisce diminuiscono ora cos'è che diminuisce qua dentro beh la popolazione e ce lo siamo detto gli 11 miliardi che spari gli 11 milioni che spariscono e la struttura demografica la composizione per età della popolazione abbiamo capito che c'è in corso un processo ci sarà in corso un processo di invecchiamento quindi si abbassa l'incidenza della popolazione interlavorativa e questo porta questa roba qui cioè se gli altri tre non cambiano è chiaro che se cambiano possono compensare no mi si dimezza la popolazione mi si raddoppia la produttività e siamo fermi tranquilli se però non succede che ci sia un effetto compensativo da parte di altre cose queste sono le brutali conseguenze brutali conseguenze che vogliono dire 570 miliardi in meno 570 miliardi mica sono bruscolini cioè immaginate di mantenere i famosi 2 milioni e 200 mila oltre 90 anni eppure togliamo 500 500 600 quasi miliardi alla torta e beh sono guai poi non parliamo del rapporto debito pil perché se il pil mi scende di 600 miliardi il rapporto va all'estel a meno che non lo rimborsiamo ecco allora anche qui è un approccio grezzo intendiamoci no evidentemente non ho la finezza che potrebbe avere un economista nell'andare a vedere le diverse cose ci mancherebbe era solo per dare un'idea degli ordini di grandezza con cui ci si ci si può muovere ecco allora questa è un'altra è un'altra delle conseguenze questa è l'ultima il finale della storia allora se le cose stanno così e ai noi direi che più o meno stanno così poi magari saranno leggermente diverse ma insomma non è che la trama è questa poi ci può discutere sulla singola scena del film che fare allora punto uno proviamo a rilanciare sta benedetta natalità diamo una mano come si fa la conciliazione ce l'ha insegnato tre bolzano la cura perché le mamme devono anche piazzare i bambini se poi lavorano e questo è un altro elemento i soldi l'assegno unico universale è una buona idea cioè il concetto è non si poteva dare i soldi ai poveri solo i soldi ai poveri è un dato è una questione e non si discute ma un conto è fare le politiche demografiche un conto è fare le politiche sociali di contrasto alla povertà tutte e due vanno fatte ma non va trasformato l'una nell'altra ognuno ha una sua dimensione allora le politiche demografiche non si facevano perché c'erano gli scheletri nell'armadio perché si ricordava il ventennio dice guai quello faceva le politiche dava i diplomi alle mamme e quindi guai se ricordare quella la tassa sui cieli vi aiuto guai ci mancherebbe ok non dico di arrivare a quelle robe ci mancherebbe ma l'idea di dire facciamo una politica demografica che sia demografica come la fanno i francesi come l'han fatti i francesi con governi diversi quindi non è una questione di politica è una questione di buon senso di società di capacità di continuare ad esistere allora intervenire da quel punto di vista altro elemento non è che deve intervenire solo lo stato perché lo stato è lo stato punto e basta poi ci sono le amministrazioni poi ci sono il privato sociale poi ci sono le imprese cioè ci sono imprese che sarebbero disponibili l'altro giorno l'altra sera a Torino c'era un imprenditore che aveva credo 200 dipendenti nell'area dell'informatica aveva una grossa sensibilità nel dare loro una mano quando avevano dei figli e questo pagando un costo corrispondente ma accettabile dava aiutava le coppie le famiglie coi figli a far sì che potessero sviluppare i loro progetti riproduttivi e questo è bravo gli diamo il diploma lo facciamo commendatore gli diamo la statua in piazza cioè ci sono delle cose ci sono imprenditori realizzati che per avere una statua in piazza a Bologna o non importa dove farebbero anche queste cose cioè Adriano Livetti non ce ne sono tanti però voglio dire senza arrivare alle punte eccelse però l'idea del dire ho lavorato per la mia comunità ho prodotto delle cose ho portato a casa dei risultati ho raddrizzato un momento difficile c'è il commendatore entra nella storia e il commendatore è felice di entrare nella storia ed è disponibile a farlo altra cosa le immigrazioni eh why not cioè perché non le immigrazioni immigrazioni è importante no lo vediamo nelle badanti ma lo vediamo in tante altre cose certo dobbiamo governarle non subirle questo sì facciamole con intelligenza facciamo che sia funzionale cioè quindi si può gestire il fenomeno migratorio credo che nessuno dica che vada contrastato però va governato poi abbiamo le emigrazioni noi siamo così sciocchi certe volte che spendiamo i soldi per far fare la laurea ai nostri giovani gli facciamo fare il dottorato dopodiché quando sono belli lì gli diciamo ecco ti diamo 800 euro e tu incominci a lavorare per i primi cinque anni arriva uno dall'Inghilterra o dalla Germania e dice guardi io invece ti ho 800 euro te ne do 4000 e questo dice Pippi Rimer lo prendo e vado in Germania ed è ovvio con la conseguenza che abbiamo dato all'industria tedesca un cervellino che poteva servire all'industria italiana e in cui noi o l'industria italiana se ha pagato le tasse ha contribuito a formare è perverso favorire gli inserimenti giovani no i nid quelli che non escono di casa siamo uno dei paesi in cui si tiene nel nido un sacco di giovani che potrebbero in qualche modo volare per conto loro però creiamo di qualche condizione creiamo anche una cultura eh un po' più d'audacia eh che non è che devi avere per forza tutto e subito certo è difficile cambiare le mentalità però in qualche modo se anche i genitori insomma collaborando con tutto l'affetto di questo mondo eh aiutassero facessero facessero nascere i giovani una cultura che si può anche rischiare qualche volta non per forza avere la casa di proprietà puoi anche prenderla in affitto volendo se vuoi andare a vivere e mettere su famiglia e poi ci sono i diversamente giovani come il sottoscritto come qualcuno di voi e cioè dare una mano eh se proprio non vogliamo buttarli nel cestino a far sì che eh la la il contributo che può derivare dai diversamente giovani eh sia comunque incentivato e valorizzato e quindi utilizzato ai fini della della società. Grazie per l'attenzione. Io penso di interpretare il pensiero di tutti che è un pensiero di gratitudine per il professor Blangiardo perché la sua lezione è stata veramente affascinante non saprei trovare un altro termine si ha affascinato e ha tenuto viva la nostra attenzione dall'inizio alla fine come raramente capita in conferenze in che durano una quarantina di minuti è veramente stata una cosa illuminante fra l'altro eh chi chi sa eh qual è il mio programma e qual è il mio pensiero che ho espresso più volte è quello di basare ogni forma di opinione ogni forma di conoscenza su dei dati di fatto oggi noi ci troviamo di fronte a dei grandi parlatori che parlano continuamente in televisione sui mezzi di comunicazione dappertutto esprimendo opinioni opinioni che sono basate su pensieri personali e non sono basate sui dati di fatto qui abbiamo i dati è il modo di ragionare che veramente io apprezzo ma penso anche tutti voi apprezziamo ai massimi livelli qualunque eh pensiero è stato espresso qualunque considerazione è basata su dei dati su dei numeri ed è quello che dovrebbe sempre accadere a questo punto io lascio la parola a te Paola che conduci la discussione complimenti non ne faccio più eh avevo visto in anticipo le slide mi ero spaventata ma il modo in cui il professor Blangiardo ci ha raccontato quello che succede al nostro paese è è stato ehm molto facile molto fluido eh abbiamo un quarto d'ora direi se qualcuno vuol eh fare cioè a qualche domanda mh specifica io ti vorrei chiedere gli altri paesi europei sono come noi peggio di noi se puoi fare una valutazione così a spanne ovviamente allora eh naturalmente la vecchia Europa è la vecchia Europa in generale quindi noi l'andamento eh popolazione che tendenzialmente diminuisce invecchiamento della popolazione diminuzione della fecondità e quindi poi della natalità in generale è un discorso che potrebbe valere diciamo pure per tutta Europa all'est e all'ove senza grandi distinzioni naturalmente poi ci sono però situazioni un pochino diverse citavo prima la Francia la Francia è stata sempre indicato come il modello in cui c'era una fecondità più alta no per capirci noi abbiamo quattrocentomila nati loro ne hanno settecento e venti settecentotrentamila quindi non dico il doppio ma insomma una bella fetta in più con credo sei milioni di abitanti in più sei sette milioni non di più quindi eh perché perché c'è stato da tempo un'attenzione a quella che sono come delle terapie no quindi il malato c'è il malato è lo stesso che abbiamo ne adesso anche loro ce l'avevano però si sono mossi in fretta perché dovevano difendersi da da quegli altri che stavano sopra che in qualche modo erano facevano le risse con i tedeschi ai tempi ancora quindi c'era questa cultura del numero e potenza che poi nel tempo si è trasformata in altri modi ma al di là delle motivazioni c'era comunque indipendentemente dai governi un'attenzione al al tema demografico e quindi eh laddove la fecondità poteva avere degli elementi critici si cercava di intervenire non a caso c'è il quotiente familiare il quotiente familiare è una roba che dice favorisce i ricchi favorisce il ceto medio probabilmente se oltre che magari anche i ricchi e consente comunque di risparmiare le tasse se tu hai più figli quindi eh agisce sul fronte dei costi poi c'è il discorso della conciliazione del degli aiuti degli asili cioè una serie di cose che in qualche modo eh danno una mano eh probabilmente c'è anche una cultura diversa io prima non l'ho detto ma io credo che dobbiamo dovremmo fare uno sforzo a passare da una logica di questo tipo noi siamo andati avanti sempre dicendo i figli li volete sono fatti i vostri cioè vuoi la bicicletta pedala classica stiamo cominciando a capire che sono anche fatti nostri cioè sono anche fatti di chi i figli non li ha perché se no la pensione non gliela paga nessuno ecco allora se noi incominciassimo ad avere questo salto eh culturale e eh ci comportassimo di conseguenza per cui se quattro bambini si siedono nello scompartimento quando siamo sul treno non li guardiamo male perché ci disturbano ma li guardiamo con affetto perché ci pagheranno la pensione ecco può essere un'osservazione stupida però è così perché se girate per Bologna ma non solo per Bologna di persone che spingono care passeggini le trovate ben pochi e se non li trovate non trovate la gente che da grandi eh pagherà le pensioni il welfare e tutto ciò che in qualche modo ne viene dietro ecco allora deve essere un salto culturale altri paesi cioè quello che hanno dimostrato altri paesi è che si può fare cioè che si può invertire la tendenza che non vuol dire fare i miracoli ma vuol dire eh quanto meno smettere di scendere la Germania l'Ungheria eh la Polonia mi sembra la Repubblica Ceca ceca o la Slovacca adesso non mi ricordo quale dei due insomma qualcuno all'est oltre che l'esempio della Germania che andavano maluccio eh sono riusciti quantomeno a frenare a frenare e a raddrizzare un pochino le cose quindi eh il messaggio che viene da altri paesi d'Europa è si può fare poi ci sono modelli diversi al nord c'è più welfare al sud magari c'è più eh discorsi legati a interventi di natura economica ma per me eh eh andiamo tutti maluccio ma noi siamo quelli che vanno più maluccio dagli altri e mi hai sì sì quali sono le le strategie che gli altri paesi hanno adottato per modificare la linea di tendenza? Eh dipende dalla ci sono degli orientamenti diversi e cioè c'è il modello eh aiuti economici eh in cui c'è l'aiuto economico diretto l'assegno per capirci piuttosto che l'aspetto fiscale eh combinato con elementi eh di conciliazione quindi legati magari a una maggior flessibilità eh rispetto al part time al lavoro eh delle donne e quindi rendere più compatibile e conciliabile le due cose. Ci sono situazioni più da nord da paesi nordici nei quali si gioca più sul welfare quindi c'è un discorso di eh per dirla in maniera molto brutale cioè da un lato ti do eh come dire il part time dall'altro ti do l'asilo di quelli in cui tu metti il bambino lo lasci lì e poi lo vai a recuperare eh dieci mesi dopo faccio per dire scherzo ehm oppure la stessa cultura di maggior partecipazione e condivisione dei compiti dei di casa cioè da noi gli ometti fanno poco eh in Svezia fanno di più o in Danimarca fanno di più poco o tanto anche questo contribuisce quindi eh ci sono leve diverse con cui intervenire che risentono anche delle diversità di natura culturale dei diversi paesi europei però non è che vengano miracoli eh comunque chi più chi meno una bottarellina gliela dà eh congratulazioni veramente affascinante la sua presentazione volevo semplicemente aggiungere qualcosa per quanto riguarda il nostro ruolo come università perché eh che un po' è stato adombrato dal da quanto lei ha detto a proposito del neolaureato che prenderebbe ottocento eh euro al mese in Italia e quattromila in eh in Inghilterra ma eh il richiamo o meglio l'incentivazione ai giovani a restare certamente andare all'estero è utile ma il problema è che non possono che poi non ritornano più i nostri neolabriati bene eh a questo proposito non per eh polemica ma cito quanto è stato diciamo promesso quasi da eh la ministra dell'università eh che è bolognese tra l'altro eh tempo fa dicendo che eh dobbiamo eh riportare eh cinquantamila dottori di ricerca nel giro del del mandato probabilmente elettorale del mandato dei cinque anni una cifra enorme eh che mi sembra irraggiungibile eh lei avrà naturalmente eh argomenti molto più solidi voglio ricordare a proposito dei paragoni con le altre relazioni europee l'esempio del Portogallo un paese di dieci milioni di abitanti che è riuscito a fare questo questa promessa si è trasformata e trasformata infatti grazie ad una riforma riforma proprio dell'università eh che ha portato che porta oggi mille nuovi dottori che vengono dall'estero in Europa cioè in Portogallo che non è non è male per un popolo di dieci milioni di di abitanti. Mi fermo qui ma è un argomento che si potrebbe approfondire e su questo vorrei ricordare semplicemente il ruolo che ha avuto Pierugo Calzolari nel prevedere il possibile sviluppo di un'università moderna eh non soltanto perché io girisco a Bologna ma l'intero sistema nazionale e ho una cognizione personale di tutto questo perché io nel sessantacinque ho lavorato in medicina andai all'estero ho girato un po' dappertutto soltanto nel duemila grazie a Pierugo Calzolari ci fu una scelta portare la genetica medica a Bologna non fu facile ma fu lui lui ne fu l'artefice e la prova di tutto questo è che la genetica medica ha contribuito in qualche cosa alla ricchezza del patrimonio culturale della nostra università tant'è vero che lo dico non eh per auto incensarmi ma il nuovo neodirettore dell'IRCS Sant'Orsola Malpighi di Bologna e un genetista medico arrivato nell'anno duemila assieme a me a Bologna grazie quindi i modelli esistono si tratta semplicemente di farne tesoro ma io sì un osservazione una domanda di una contraddizione vera questa settimana la prossima ci sono le elezioni in Nigeria più di cento milioni di abitanti credo che siano adesso non ricordo a numero ma cinquanta per cento hanno meno di diciotto anni se questo fosse in Europa avremo una politica demografica questi sono in una situazione in cui hanno tanto futuro in teoria davanti ma poi hanno difficoltà a spendere quel futuro là quindi la vera contraddizione che noi abbiamo la cosiddetta vecchia Europa è che c'è la nuova Africa in cui le nascite sono in un numero enorme superiori alle nostre non ci sono però le condizioni sociali per potere valorizzare tutto questo quindi non c'è una politica demografica non c'è un welfare che ti aiuta a fare fanno figli fanno figli e fanno figli e quindi inevitabilmente inevitabilmente quello è un che scoppia pur pur avendo un grande incremento demografico perché non ha altre situazioni noi avremmo delle situazioni che potremmo gestire bene ma non abbiamo le nascite e questo non è un problema da poco perché questo questo continente è subito di là e i dati sono questi anche lì partono da dati che non riescono poi a a gestire sì però questo è un altro problema secondo me cioè noi abbiamo in Africa adesso vada a memoria credo che attualmente siamo sul miliardo e sei qualcosa di simile e nell'arco di nel cinquanta più o meno dovremmo arrivare a tre miliardi parlo della subsahariana se mi ricordo bene il nord Africa sorpasserà l'Europa Europa come continente non tanto come unione europea nell'arco di qualche di qualche decennio forse come numero di abitanti però ha un andamento più morbido eh ora è chiaro che eh non possiamo fare i discorsi della serie tutto ciò che c'è in più là lo andiamo a trasferire di qua perché i numeri non non quadrano non c'è niente da fare quello che dobbiamo cercare di fare è far sì che lo sviluppo dall'altra parte sia gestibile quindi dobbiamo smetterla di andare a portare via le cose o sfruttarle per delle maniere molto brutale eh chi chiunque chi più chi meno una volta erano eh gli questi poi diventi sono diventati gli altri però insomma c'è in giro si intuisce un certo sfruttamento della dell'Africa di di varia genere ehm dobbiamo aiutare quindi a far sì che lo sviluppo sia locale possiamo farlo anche attraverso immigrazione di carattere circolare possibilmente cioè noi potremmo avere definire quando dicevo prima eh dobbiamo governarle non vuol dire impedirle vuol dire per esempio immaginare situazioni in cui c'è processi di formazione uno arriva impara a fare delle cose impara le regole eh raccoglie un minimo di capitale stabilisce delle reti delle relazioni ritorna in mali eh lì mette giù la fabbrichetta c'ha la mano d'opera a costi ragionevoli fa quello che deve fare alla l'imprenditore di qua c'è ti mando sul eh eccetera capisce si può fare cioè bisogna avere la volontà di fare e creare le condizioni perché si possa fare io credo che l'unica via d'uscita che possiamo immaginare per per il continente africano è quella perché se no gli otto miliardi che stanno sulla terra oggi eh che diventeranno dieci undici dipende da come va a finire la storia però tutto quello che si aggiunge si aggiunge in Africa e se se l'Africa scoppia eh quel che che la deflagrazione dello scoppio si ripercuote e lo vediamo abbondantemente dalle altre parti perché poi quelli che scappano sappiamo tutti che sono quelli che hanno i i trentamila euro o qualcosa di simile per quelli poveracci poveracci stanno lì quindi eh c'è un aspetto etico c'è un aspetto anche di convenienza economica però questo credo che sia un altro grande problema che andrebbe affrontato possibilmente con con molto buon senso e onestà non è facile quindi se capisco bene sono eh due tipi di strategie strategie locali nazionali che ovviamente poggiano sui dati di un paese e strategie più allargate per creare degli effetti di circolarità o di compensazione non so trovare la parola che permetta comunque una crescita eh reciproca. Sì secondo me si può fare in modo di combinare un po' le due cose nel senso che insomma è chiaro che l'Italia ma non solo l'Italia l'Europa perde forza lavoro eh quindi è chiaro che l'immigrazione diventa funzionale se necessaria rispetto a non non ci sono non aumenti di produttività per compensare questa cosa però questo contributo questi flussi possono essere anche l'occasione per far sì che se c'è un meccanismo diciamo di formazione di acquisizione di esperienze e quindi poi di ricambio non solo diventino un contributo importante a supporto del sistema produttivo europeo ma diventano anche l'occasione per formare i quadri gli elementi di dare le conoscenze per creare un'imprenditorialità e una capacità di sviluppo di un continente africano che in quel modo potrebbe come dire eh peraltro eh è vero che la fecondità è alta però è anche vero che progressivamente si va riducendo tempi lunghi cioè la transizione demografica la finiscono anche loro certo non domani eh e poi c'è un'inerzia perché no parlavo prima delle galline lì le galline sono tante e anche se fanno meno uova fanno tante uova vorrei fare una domanda anch'io perché non voglio perdere questa occasione di avere il più grande esperto del patrimonio demografico beh insomma secondo me sì come presidente dell'istat e poi da quello che ci ha detto mi sembra mi sembra che la mia affermazione sia ampiamente supportata ecco siamo convinti che la causa vera della denatalità del fatto che i giovani italiani siano così poco propensi a fare i figli dipenda dalle condizioni lavorative dai supporti che lo stato oppure deve fornire e che in altri paesi fornisce cioè dalle condizioni nelle quali si trovano questi giovani nell'ambito della nostra situazione lavorativa ne siamo convinti perché paradossalmente quando in Italia le condizioni lavorative non erano sicuramente come quelle attuali ma presentavano molti lati sfavorevoli molti più molto più sfavorevoli di quanto non siano oggi la natalità era molto era molto aumentata era molto superiore a quella attuale secondo me al di là delle condizioni lavorative l'esempio della Francia che lei ha citato può essere seguito l'esempio della provincia autonoma di Bolzano dove anche nelle strutture pubbliche c'è questa facilitazione alla natalità sicuramente questi sono sono dati che dobbiamo prendere in considerazione però secondo me c'è sotto un aspetto culturale una mentalità che si è instaurata progressivamente nella popolazione giovanile che sfavorisce la natalità cioè il giovane oggi e tutti noi che siamo stati professori ne siamo venuti a contatto molti di noi che hanno dei figli e hanno amici della nostra età con dei figli hanno constatato che questi ragazzi queste persone dai 25 ai 35 anni che hanno tutte le condizioni molti di loro sicuramente favorevoli per poter fare dei figli non li fanno perché perché vedono i figli come un vincolo come un impegno come una mancanza di libertà secondo me questo problema culturale di vedere la famiglia come qualche la famiglia e i figli come qualcosa che può essere rimandato 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 e tutti noi sappiamo che oggi lo rimandano io come medico questo l'ho vissuto molto le ragazze rimandano a 35 anni quando poi la loro fecondità è più che dimezzata allora poi dopo subentrano tante altre problematiche secondo me è molto un aspetto culturale più che un aspetto legato alle condizioni di lavoro che impediscono di fare dei figli in passato queste condizioni di lavoro erano ancora più sfavorevoli lo ripeto però i figli li facevano assolutamente d'accordo eh l'elemento culturale è l'elemento di sfondo cioè il mondo è cambiato i modelli sono cambiati eh la realizzazione della propria esistenza è cambiata anche nei tempi quindi non vuol dire che non mi piacciono i bambini c'è certo io un figlio due figli li faccio un maschino femmina che bello che bello ma non adesso aspettiamo vediamo perché prima io devo riuscire a fare a realizzare me stesso quindi devo laurearmi devo trovare un lavoro che sia soddisfacente magari devo fare il giro del mondo perché ho sempre sognato di farlo e via discorrendo il calendario poi si sposta in avanti comincia a avere trentatré trentaquattro trentacinque la fecondità a vent'anni una donna ha una certa fertilità a cinque a quaranta un po' meno e quindi c'è tutta una serie di cose quindi quando poi arriva il momento e dice ok va bene dai eh supponiamo che ci sia appunto un partner eccetera quindi è il momento facciamo sto benedetto bambino che bello che bello poi ti rendi conto sì che bello che bello ma la notte ti sveglia e vi andare e allora dici certo sì è bello eh però e quando poi il problema è dici ma adesso il fratellino sì fratellino tiriamo grande questo poi vediamo che solo che tiriamo grande questo siamo partiti a trentasette anni tiriamo grande e cominciamo ad averne quarantadue e dice ma quarantadue chi ce lo fa fare dai dai ci basta uno gli diamo tutto e il gioco finisce lì è perverso ma perché sono cambiate le idee ma quando però si dice diamogli con gli aiuti di tipo economico diamogli quello che possiamo dargli eccetera eccetera è pur su questo sfondo l'idea di dire almeno recuperiamo quelli diciamo gli eroi i più audaci che eh dicono sì mi piacerebbe ma non me lo posso permettere almeno quelli cerchiamo di tirarli a casa non arriveremo a un milione di nati ma se io ho che fare adesso con una eh con gli stati generali della natalità l'obiettivo che ci ci vorremmo dare nel prossimo convegno sarà almeno cinquecentomila che non è una roba però è già qualcosa ecco quindi ehm sono assolutamente d'accordo la la lo stile di vita di oggi eh eh quello è la cultura insomma il modo di fare l'educazione che hanno ricevuto i modelli che hanno ricevuto i genitori che gli stanno dietro cioè ci sono mille cose diverse dai nostri tempi ci sono altri dati eh una lettura di quello che lei ha presentato io faccio allo psicologo il tasso di incertezza che c'è nelle carriere personali e lavorative oggi è incomparabile con il tasso di incertezza medio delle nostre generazioni chiedo scusa per il nostro anche se moltissimi sono più giovani di me e questo è un dato non irrilevante che spingerebbe verso un discorso che come lei ha fatto di welfare di riduzione di questi tassi di incertezza che quando si accompagnano per la carriera lavorativa a una struttura industriale produttiva come quella della nostra piccola industria con tassi di innovazione vicini a quelli della Romania spesso tolte alcune punte di eccellenza rende difficile avere le condizioni di welfare di base che permettono di fare un progetto personale i miei colleghi che fanno psicologia clinica vedono aumentare questi problemi non perché noi eravamo più solidi ma perché quando io mi sono laureato con l'Ode avevo a casa le lettere che mi chiedevano di andare a dei colloqui di assunzione se io guardavo mio padre avevo un'idea dei compiti di sviluppo che dovevo affrontare li potevo anticipare oggi gran parte di questi compiti di sviluppo mutano a un tasso così elevato che quando le incertezze che lei giustamente citava relative alla educazione dei figli relative all'aiuto a casa non ci sono aggravano una situazione che non è semplicemente diversa dicono i dati clinici perché noi eravamo più robusti è diversa perché è cambiato straordinariamente il tipo di sfide e di domande che ci sono a disposizione la cultura è anche questa riconoscere credo che c'è una operazione di questo tipo di cui tenere conto con questi tassi di incertezza neanche Gesù bambino credo che sarebbe in grado di progettarsi una vita solida sì in parte ha ragione non solo in parte però si è anche alzata all'asticella cioè la mia generazione io ho fatto una figlia la mia prima figlia che ero precario speranzoso di quello che avrei potuto fare nella vita però scommettevo su me stesso se mai facevo mi arrabattavo cercavo di fare più lavori eccetera oggi un disoccupato vado a memoria credo che porta a casa almeno per 12 mesi mi sembra tipo 800 euro quindi vuol dire qualcosa cioè è vero che c'è l'incertezza è vero anche che ci sono famiglie più solide di quelle che c'erano ai miei tempi anche perché non sei in competizione con i fratelli che non hai quindi assolutamente d'accordo sulla visione generale però dobbiamo mettere in conto anche questo aspetto che eh io ho l'impressione che si sia persa la non dico il gusto perché non è non è proprio il termine esatto però la la propensione al rischio cioè mettersi in gioco cioè dice va bene io faccio delle scelte della vita anche delle scelte importanti rimbocchiamoci le maniche e proviamoci eh quando ci provi ci provi con convinzione magari ci riesci anche ecco oggi ma non voglio criticare i giovani di oggi oggi i giovani credo che hanno rispetto alle generazioni che li hanno preceduti però lei sicuramente con la sua attività è sicuramente più vicino a questo tipo di informazioni però la mia sensazione è che abbiano una minore propensione al rischio cioè devono avere la strada tracciata prima di fare una scelta importante come quella di mettere al mondo un figlio e siccome la strada tracciata purtroppo ma anche ai nostri tempi non era semplice non era così immediata eh qualche volta a ritardo ne scatta il giochino di cui si parlava prima però è una mia opinione bene Paola direi che dopo questa ampia interessante discussione possiamo concludere questa bella serata ringraziando ancora il professor Blanciardo per quello che ci ha detto per tutte le parole che lui ha pronunciato e nelle quali io mi ci ritrovo personalmente ma penso anche voi nel modo più totale grazie ancora grazie a tutti